NITROVIGGIA NITROVIGGIA Inoltre, Prof Selti s'ha快 un'attiva e innovativa direttore. Volontului ci tir partoprenas decid ludoin, c'è la computillo, più più successi la partoprenantoi, desplida mono ed i provasciani. Per tiu maniero, la laboratorio de experimenta economico pli bonigas nian comprenon della individua agro in economia e situazioi. Professore Seltin estes Nobel premiito por economio, la unua che gis nun la sola in Germania. Lì ricevis la premio in 1994, con la usunanoi John Hassanyi e John Nash. La Nobelcomitato ti all'honoregis la pioniera in esploroin sulla campo della ludoteoria di Reinhard Seltin. Nivisitis professore Seltin in lìa domo in Königswinter Cipon per paroli per ii fatti e contribui, per la Nobelpremio, per ii carriere e anche per ii privati interessi, principali di esperanto attivati. Professore Seltin, la ludoteorio è la sufficiente nuova campo della scienza in cui vi decide influisci. Ci potete chiarire a me e ai nostri spettatori, quale è la ludoteorio? La ludoteorio è la matematica metodo per modellare e analizzare situazioni, situazioni che hanno conflitti e cooperazioni. e anche la ludoteorio è la matematica e la matematica. e anche la matematica è la matematica, la matematica, la matematica e la matematica. la matematica è la matematica. La ludoteorio è applicata a molti problemi. E' applicata all'economia, all'mercato, alla teoria dei mercati con molti partoprenanti, molti firmati che vendono la famiglia o la simila in produttori. E' applicata all'apolitico, all'exemple, all'a formato di coalizioni in parlamenti, all'electo, campagna, e anche è applicata in biologia, perché la natura selecta resulta in tendenza di optimismo. E' optimismo, se c'è un conflicto di interessi, resulta in ludoteoria equilibrio. Cioè, come, Professor Rosalton, si usi la ludoteoria per fare gli esempi di decisioni? Nei recti. Oni già povassi profitti di generale econo, che in cui avevano della ludoteoria, che in cui avevano, 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 è una cosa molto nàiva, per l'uso della ludoteoria. Professor Seltni, quale è l'estatuto della ludoteoria che avviene contribuendo? Per molti anni, la ludoteoria è concentrata al cooperativa ludoteoria. Oni nomas cooperativan, la ludoteoria che io supposano che è cooperato come il caso, che in cui avevano questo interesse della parte preghiere. Sì, non possiamo spostare, perché devemosi raccontare quali ci sono i 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 quali ci sono. E per questo, devemosi raccontare più detali, perché devemosi raccontare quali ci sono i 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 quali situazione co-operativa, ocasi o non-ocasi. E questo non è un'analisi di cooperazione. E qual è la contribuzione di voi i nostri colleghi e anche voi si incontriamo in Lodotereo? Jonas ha fatto tre basi, labori. Lui incontriamo il concepto della Lodotereo Equilibrio, e anche provo che il suo lodo, che è fina in un certo senso, hava il suo equilibrio. Noi provo che exista, e il suo lavoro è stato molto grave. E questo lo ha fatto in 51. E questo lo ha fatto, per molti anni non è attenti a questo concepto, per molti. Nuo in la 70'e anni, cominciamo, qualche persona, anche me, cominciamo a modificare l'economia in situazione per l'uodere, e applicare l'economia in situazione per l'uodere, e con un equilibrio perfetto, e fare un progresso, perché ora provo a cercare altre domande, e modificare l'interessazione dell'economia. La Lodotereo, la Lodotereo, Devas Cangigi, Devas Cangigi, Esplorio, la Razzia, Tutte Razzia, La Lodotereo, 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 La Lodose, La Lodotereo, La Lodotereo, come la Nubel Premione? Certamente non, e non ho provato un'immagine, e non ho provato un'immagine, perché sono un professore. Perché, se vi cominciate a studiare, vi non siete come buoni, vi siete in la scienza, e che vi potete fare un professore, e restate in un'università, non è tutto, non è tutto, perché io credo che non ho provato di fare questo, ma non ho pensato che non ho potuto fare questo. perché è stato un'immagine, e che è stato un'immagine per te? Sì, è un sorriso, non ho aspettato, perché mi è in un supermercato per farciare le nuotrazioni e il blu, e il generale si chiede a tutti i nostri, perché si chiede a tutti i nostri, e non potessero atteggiare il generale e volessero atteggiare il premieto, perché il generale pubblico è informato. Cioè, non è stato così, quando ci sono atteggiati i più giorni, ma ci sono atteggiati. Quindi, quando mi veniva da questo accettato, è stato un gruppo di Homo in cui mi pensi che io sono mal buoni ocasi, e mi ero ires le automobili e io vieno a me cadere, mi gratulassi, pro cio. No, mi domande, non mi clarigis al me, li clarigis al me, ti è estes, ti è il mi informicis per la premio. Chi è il Vicentes, in un momento che am la Sveta ha reto, transtornis la premio al vi? Mi ne tutte memoras, ciò mi sentis, mi nuore memoras, che mi devis attenti per correcte conduti in la cerimonia. Cioè, tiò occupis min tum tio tempo, che mi ne nion favo mal giusta. Cion vi concilius al una sciencisto, cion vi, volas iam recebi la Nobel premio? Se io venas al me, diras, che mi sattus ricevi la Nobel premio, cion mi devas fare, poter, mi diras al me. Se vi volas atingi, labori per atingi la Nobel premio, vi jam faras la mal giustan. Chiar, odine a tingas, tion selon se one marschas alla selu. Tio este selo, cion oni atingas, char ogni facti estas entusiasmiti per la sciencio mem, se oni havas ion, si volemon, caitial tre forte laboras po gaini la econoim, se oni nua laboras po ricevis ion externan successon ion premio tio ne stas suficie granda instigo al tio cion oni devas fari po ricevi la premio Kiel, kai kie, vi el trovas vien pli bonan idean? Mi ofte migras in la montetoe, ja, in la mal altae montoe, kai dum tio promenado mi ofte havas tre bonan idean. Ciar semi estas tut sola. Mi provas koncentriggi su jela problemoi, scienzei, kion mi havas, kai tio ofte estas trefugte dona. Kalkfolie mi ancao migras kollegoi, kai alia personoi, kai tiem oni interparolas. Ancao dum interparola, paroloi, oni provas havi bonan idean. Kion chancis in via vivo? Kiam vi recevis la nobel premian? Jo, antool mi recevis la premian, non ho interessato per il mio lavoro externo e externo della scienza. Comprendeblami, iam estis conata in la scienza, set homoi in la, cioi, estras, entreprenouen, e li ne interessis per il mio lavoro, estis tro teoria, teoria tro basa, cae oni ne interessis per il mio lavoro. Subite estis grande interesse per chiun mi fahras, chiun mi estras, cae TV Blue, cae Journalistoi, venas, cae interviewas min, chi el vi, ho diao, sind malmolte tio, aucasis antaue, tre malmolte. Vi volas reveni al via carriere evoluo, vi studiis matematicon in Frankfurto, cae poster vi decidis iri al economico. Cial vi decidistian? Nun, estis ne nua mia decidu. Mi, mia interessis per l'economia, molte interessis per tio, sed tio, mi menne povis decidis, iu devus, devis offerti ion postenon al mi, cae iu professoro el de economio faris tio. Ja, proponis al mi, labori por li, cae mi acceptis tio. Nye, povonis mi, jam, so, mi proponis tio en al mi, cae mi, siis, que tio es des tribona, pao mi, cae mi acceptis tio, Questo è stato dopo il mio examen di diploma, e poi ho lavorato per la doctorazione in matematica. Mi doctoricis in matematica, che mi sono lavorante per l'economia. Cioè questo è il doc. Riccio relato al ludoteorio? Al ludoteorio, è stato da origo del mio diploma, che ho lavorato per l'economia. Cioè questo è stato anche un'economia. Cioè l'economia è stato un'economia. Cioè la scienza è cambiata. Cioè l'economia è stato un'economia, che avevano un'economia molto grande, come un esempio dell'intelligenza. Vi restis fidela al via Accademia Carriero. Cion instigis ven, ne Sanji, al esempio dell'industria? Cioè l'economia è stato un'economia, che avevano un'economia, che avevano un'economia. E' stato un'economia, che avevano un'economia e che avevano un'economia. E' stato un'economia molto attraversato. Quattro di via scienze e labori, come avre sono in un'economia? Cioè l'economia è importante per via explorare? Cioè l'economia è stato un'economia molto attraversato con tre persone in Berkley, dell'Università dell'Università. E' stato un'economia molto attraversato con John Arsani. Cioè l'economia è stato un'economia molto attraversato con me. Cioè l'economia è stato un'economia molto attraversato con me. Cioè l'economia è stato un'economia molto attraversato con me. Cioè l'economia è stato un'economia molto attraversato con me. Cioè l'economia è stato un'economia molto attraversato con me. Cioè l'economia è stato un'economia molto attraversato con me. Cioè l'economia è stato un'economia molto attraversato con me. Cioè l'economia è stato un'economia molto attraversato con me. Stessa uniamo rather danno. La considerazione nell'economia è stata un'economia molto attraversato un anno, però era stato un'economia molto attraversato con me. E' stato un l´economia molto attraversato nonbed siento. ジ finance, quando la studenti è stata un'economia in un'e trigger. Noia parte includevolezza un'economia. dializzamento, che forse aggiorni delleравOTze. Cioè la possibilità con le potenti, io ho examinato, io non ho nomas antao, diplomo. Dumbna un uai due jado è stas? Ja, è stas post la due giustri. e che mi aveva un dubai che mi pò che mi pò fare un examen e che aveva successo e che mi informavo di altre lavoro poi se mi la Università che mi pensavo che mi pò provi successi e mi tre e diligente lernis pò teo examino e facci fai sufficio buonan sufficio buonan successo e che mi confido altigis che mi restis della università su la tema problemi ebbe anche relato al tio che vi avas multa diversa interessa yes ancora ec yes ancora relatas al tio ciò studi pli long all tio cotimis entio tempo ec po matematica mi ausculti prelegio in pre campi che stai diversa ec fatti c'è una cosa che mi faccio es tre valore per me poste comenta della ottica jada vi cune con jonathan poole el donis la vercon chumilernas esperanto in tio verco vi analizas helpe di via luto teorio la chanson che la internazionale lincuon esperanto havas che il internazionale comuniquillo che instigis ven al tio lavoro non jonathan poole mi es esperanto mi rinconti lì in paderborn lì es di helma france che mi fai un eskurs che migri in la montèto che dove parlavamo per molte affaire che in tio inter parole e esist tio ideo fare tion modelligi tion tion in maniera e ancora tre interessi esiti esiti per tion e tion labore per tion fare ci è che che è tutta clara al mi la situazione che è mine tutte sia che è esti che 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 un interesse a di rilasci che rilasci al esperanto che sia in tion che si che si 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 in un grande articolo ricevis la nomone «Sumi Lernu Esperantone». «Unoem tionor estis, quel on i diras esplorrapporto», «ne vere pubbliciida» quel libro, «set nu esplorrapporto», quel on i sen pa gesendas all'interessuloi. «Set poste Helmar Frank el doniscien quel libro, «cun Germana traduco», quel estis farita del Germana Mathematikisto». «La vercomem, un nu estis nu farita esperante». «Yes, yes, ni nu habis ion anglan sumigon, antaue». «Embli tri, quapi, pagio in angla lingvo, dat tam in l'allia esis in Esperanto, kan mi pensiske. «Uni ja po was fariti un esplorrapporto en ankao in Esperanto, en kial ne, se ob i faras illi in angla lingvo in Germano und schaun kial ne in Esperanto, se est das io, qui est des po speziale interesse po Esperantistoi». «Da tiu venas all'allemando, ci u Esperanto taugas kia lingvo por tiu speziale facoe?» «Una tre bonne taugas. Amin, est das… mi ja ne estes la unua, kio scribis i pri matematica afferui, est es ja… …i am suficit multe da… …sientiai literaturo in Esperanto, a Vebla. …kai ankao tre famai matematicistoi scribis in Esperanto, …nac frecce exemple». «Dum alia interviuo, vi diris, ke Esperanto estas parto de via identitetzo, chu vi povas klari gittian?» «Kio estas identitetzo?» «Identitetzo estas… …kio noni respondas alla… …demando kio estas vi…» «Kio vi estas?» «Dum, mi es das Germano, mi es das Parolanto della…» «Nazia, mi havas tion gepatran lingvon, …na germanan lingvon, mi es das… …mathematica ekonomisto, …kai mi ankao estes Esperantisto». «Kio vi esparanticis?» «Mi esparanticis… …mi pensas in quartec ses au quartec sep, …mi pensas in… …kai quartec sep… …kai en tio tempo… …in garmanuio oni ne povas… …mi pensas in quartec sep… …mi pensas in quartec sep… …ne estes ir… …set mi copiis la dexes regulo in de io vergo, …kai ankao mi… …kai ankao mi… …povis recevi ion wortaren… …kai sur la baso de la texes regulo e carla wortare… …mi autodidakte… …lernis… …mi ankao… …trobis ion kio… …sendis al mi… …ion correspontaren… …korson sent… …kai ankao mi… …mi… …respontis… …mi ankao… …mi re-respontis… …kai mi jam… …sufficio… …sias kai… …ne estes ir… …io… …sensu… …sacchiam lang… …vi besone esparlare in la lingua… …du… …tri semeine… …set tiodo estis la base… …mi ne… …estis tre bona… …en esperanto… …postio… …sit mi provis… …paroli iom… …scribi iom… …legi… …traduqui… …mi provis… …siu… …vi mem… …estis activa… …en la… …esperanto cultura… …mi estis… …activa en la… …esperanto… …vivo… …mi estis… …in poster… …ciaam studis… …in Frankfurtu… …mi estis… …membro de la… …esperanto… …societo de Frankfurtu… …cae… …postio… …mi estis… …jam… …acce… …assistanto… …mi… …dum… …quelca jaro… …estis… …la… la vicepresidenta di Tio Societo, mi ha ancora fatto un examen per il corso di guidanza, mi ha ancora fatto un examen per il corso di guidanza, ci ha ancora fatto un examen per il corso. Si è sempre la più buona esperantista in mia famiglia. Mi ha ancora fatto un corso in la popol alpnaio, che anche puste, aveva un Esperanto, che incontrava in mio appartamento. So, come resti in contatto con Esperanto? Mi daure resti in contatto, mi legis giornale, mi legis periodaggio. Mi è stato un viva membro della Universale Esperanto Assozione che ci hanno ricevuto la Revue un Esperanto. E anche, mi è stato un abonato di Monato, un lungo tempo. Mi legis, hoffi, io. Mi legis, hoffi, 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 hoffi. E mi è un forte per la mia professione. Quali è la più grande avantage che avete visto in Esperanto? Molte amici, alliei landi, non solo collegi, alliei professori di mia faccia. Non si giochi a favore, un giorno, non si giochi. Non, direi. Sì, sono un altro esperanto. È un altro esperanto. È un altro esperanto. È un altro esperanto. Per quanto ricorda molto. È un altro esperanto. interagire con lui. Voi pensi che via il seno anche parola di Esperanto? Tu vi rincontestci in un esperanto con me? Sì, mi rincontestci in un esperanto con me. Tu vi parola di Esperanto con ci? Mi faris tiondum èble d'uona. Mi pensi che via il faris tiondum èble d'uona. Se generale non parola. La Germana lingua non è stata. Ambao Germana lingua. Vi certe se fice molte prepenze per l'esperanto che anche vi faris pubblicazioni in tuo relato. Ciù Esperanto aveva un esperanto? Sì, esperanto aveva un esperanto. E non è un certo esperanto. Non è un certo per te. Io spero il fatto che C'è un'afferencatsio E' un'esperanto ancora, se volva creare l'ercizio in navigazione dell'educovo. Si aveva un esperanto per l'ercizio per le interagioni che mostre, che è un'afferencatsio. Helmar Franch ancora scriveva per te. e ci donavano l'espero. Ebbene ci instigono le persone, autorità, incontruzano esperanto come lingua orientale. Ebbene sono private persone che hanno avuto questi avanti, perché, in realtà, è stato un grande avanti, è che abbiamo conosciuto una lingua, se vogliamo apprendere le due, perché abbiamo avuto un grande riguardo per la domanda che avevano apprendere, e ciò che avevano apprendere le nuove lingue. E l'esperanto donava tutte le buone incontruzioni in la lingua. Ciò che avevano apprendere facile con le altre gradi di competenze, e in questo modo è molto facile. in realtà, tra le esperanto ciò che avevano apprendere tre o quattro o quattro o quattro o quattro o quattro o quattro o quattro. ciò che avevano apprendere l'esperanto. ciò che avevano apprendere l'esperanto ciò che avevano apprendere l'esperanto ciò che avevano apprendere l'esperanto che avevano apprendere l'esperanto ciò che avevano apprendere attacchi, ciumi stessi, pensassi che un povus fari più multe e più buoni, e la più multe idee non sono praticabili, e fanno quello che è praticabile, e mi sono contento con il lavoro di oggi. Cio estes la plei impresa, occasentaggio, ciumi haves per di Esperanto? Già, eble estes che mi povis prelegi in hispanuio al hispana pubblico in Esperanto. E mi haves la helpon di Esperanto, tre buona traduzione, e noi avevamo folie in Esperanto, e in hispana lingua, e questo è molto buono. L'Unione Europea ha fatto per gli stati dell'Oriente e dell'Europa, dove vive la lingua evoluzione dell'Europa? e l'Unione Europea ha fatto per gli stati dell'Oriente e dell'Oriente e dell'Oriente. e l'Unione Europea ha fatto per gli stati dell'Oriente e dell'Oriente e dell'Oriente e dell'Oriente. Se vuoi in ideiasi costrui noi, è questa che la lingua sia molto più grande per gli stati dell'Oriente e dell'Oriente. C'è un'e devus fare i'on pritio. Sì. C'è un'e devus fare i l'administrativi costi. Non, l'administrativi costi. Non, l'administrativi costi. Vi venner al Breslau, vivis in Frankfurt, in Berlino, Bielefeld. C'è un'e vivis a punt Bonn? Qui estas via hemmo? Ja, hemmo... ...en la senso de... Comprenebile... ...mi ha hemmo nun estas dieci. Sì. 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 ...mi ne parolas la locan dialekton... ...ja? Do, mi ne estas tutte... ...mi ne provas senti min parto di teo regiono. Ciel, amin, io provus, cuio parolas la locan dialekton... ...ja? Havas la radicòin... ...tie ci. ...do, mi ne vivi, vivas... ...quie mi havas... ...mi havas... ...mi han radicòin. Sì. 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 I tre ...mi havas... ...mi havas... ...miässis. Mi ancora volo a contribuire alla teoria della nemiguita razza e la esperimenta e explorazione della base dei fatti per l'economia che devono avere la base della teoria della nemiguita razza. E mi spero che mi ancora possa fare una grande contribuzione al teo campo. Che a teo mi concentrizi, mi accostavo a portare a teo campo. Perché mi non si è stato molto lungo, mi hava tempo per fare tiri. Perché mi non hava 70 anni, e non ho qualche pollo provo. che avevano buoni lavori e esplori, ed se avevano un ottico, ma non è una persona che non può lavorare come una persona. La forti, mal forti, e anche mal sanno, potete venire subito, e ciò potete cercare, la activa vivo povas subiti ceci pro grava Malsano. E, per esempio, John Hassani aveva Malsano in qualche jahre antao i morti in augusto del 2000 e, da mi vedas, la vivo della humanità è sempre fina e un'idea che con si prete. Professor, se vi liberi havo es, desidero, qu'è gesto? Mi devus prepenzitiron, mi nekutimastisiri. Mi devus prepenzitiron, è stata tre mal facile affaire. Professor Selten, mi cori dankas al vi por la tre interesse e interviuon, che mi diceva, la salvi, ci un buonan, parla, est, un tetson. Mi sensi, dankan, dankan. Mi sensi, dankan. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.